Strade con la brodo nel Verbano, una vera e propria emergenza, buche quella che si è verificata a Verbagna e dintorni a causa delle ultime piogge. In decine di strade l'asfalto ha ceduto causando voragini pericolose per la circolazione dei veicoli e anche per i pedoni. Impresentabile lo stato del rettilineo tra Ferriolo e Fondotoce, soprattutto in direzione Verbagna. Una grossa buca si è aperta anche lungo la statale del Lago Maggiore ai Tre Ponti e poi innumerevoli le vie cittadine. Da questa mattina l'amministrazione comunale verbanese è corsa ai ripari con il coordinamento dell'assessore ai lavori pubblici Nicolò Scalfi e la viabilità Patrick Rabaini. Una situazione purtroppo prevista, spiega Scalfi, alla quale si è cercato di porre subito rimedio. Dall'alba di oggi un'impresa ha infatti iniziato a sanare le situazioni più critiche. Qualche disagio alla circolazione si è verificato durante gli interventi, in particolare lungo la provinciale di Bieno. Viaggi da incubo anche lungo la superstrada dell'Ossola, anch'essa martoriata dalle buche, soprattutto nel tratto tra Fondotoce e Mergozzo. Molte auto sono state danneggiate, un problema che si ripropone purtroppo ogni volta che le piogge sono insistenti. Paura anche perché con l'acqua caduta non erano ben visibili i cedimenti dell'asfalto. Grazie a tutti.